Gli italiani presentano ai partiti il conto della partita del Quirinale che ha visto la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica dopo una settimana di stallo politico, trappole e dialogo infruttuoso. Il sondaggio presentato da Alessandra Ghisleri, a capo di Euromedia Research, mercoledì 2 febbraio offre infatti diversi verdetti sulla percezione dell'opinione pubblica sulle forze politiche con scarti clamorosi e un sorpasso in testa nella classifica del consenso. Innanzitutto il 70,4% del campione intervistato dichiara che tutta la politica esce sconfitta da questa vicenda. Il 32,3% si è sentito preso in giro, mentre il 21% ha avuto la percezione di assistere ad una sceneggiata. In tutto questo anche le intenzioni di voto ne hanno risentito in maniera suggestiva spiega la sondaggista alla stampa. Insomma, gli italiani sembrano soddisfatti per la conferma di Mattarella ma non capiscono il modo in cui è maturata. Tutti i leader politici che hanno partecipato attivamente all'elezione ad eccezione di Matteo Renzi, più 4,2%, e Giorgia Meloni, più 2,7%, perdono consensi nell'indice di fiducia rispetto alla fine dell'anno appena passato, spiega Gisleri che presenta i numeri del declino. Matteo Salvini, meno 5,3%, e Giuseppe Conte, meno 5,2%, i più penalizzati. Perdono in un mese 5 punti. Giù pure Enrico Letta, meno 1,5%, Luigi Di Maio, meno 1,1%, Silvio Berlusconi, meno 2,1%, e lo stesso Mario Draghi, fuori dalla partita per il Colle ma in calo nei consensi, meno 3,7%.